Burloni bentornati in questo nuovo video della vita in città 2 Oggi abbiamo mille cose da fare quindi non perdiamo tempo Prima di iniziare però vi ricordo che questa sera dalle ore 8 e mezza mi trovate in live nel mio canale Twitch Oggi ci sarà una piccola sorpresa in live quindi seguitemi trovate il link nella descrizione Ma partiamo dai commenti dei burloni Il primo che vi ho fatto super 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 sorridere è quello di Samuele Pititu Che mi dice in terre molto lontane c'è Marci che costruisce fontane assieme al piccolo mercatino del fattorino Marcolino Qui c'è il grande salvatore ovvero Steph il gladiatore e a coprirlo nelle retrovie c'è Fere con l'arco e Kendall con le magie Questo è un posto molto bello e se ci entri ti trattano come un fratello bellissimo Samuele Marci ma il giacaranda vi è piaciuta la meme del fatto che continuavo a dire giacaranda nello scorso video Vabbè sono un pochettino stupidino Ma non finiamo qui perché abbiamo anche un commento di francivi09 che anche se ti avevo già aggiunto Volevo leggere un pochettino e mi dice Grande Marci non vedo l'ora di esserci stasera in live I lavori per il villaggio proseguono alla grande È quello che fai in ogni video è davvero impressionante Grazie sono contento che vi piacciono le mie costruzioni Con questi replay fatelo un pochettino scoprire a tutti i vostri amici che magari Non guardano più i miei video perché dicono che sono noiosi le costruzioni Adesso abbiamo il replay dalla nostra parte che sono stupendi Secondo me potresti provare a ricreare Una specie di overworld nel nether Però fatto con i materiali tipici di quella dimensione Come netherrack basalto blackstone Che secondo me come fairy kingdom nether Unito poi alle varie case sarebbe proprio carino Piccola modifica potresti quando fai replay utilizzare la stessa musica Che utilizzare della big vanilla tamiano Mi raccomando utilizza Swift 7 nobody else Nobody else Nobody else Bellissima Comunque ho letto anche altri commenti Che purtroppo mi sono persi mannaggia Che mi dicevano che abbiamo un pochettino lasciato a se stessa La nuova porta del villaggio Avete presente no che abbiamo fatto la porticina del villaggio In quella zona lì insomma La porta la chiave L'ingresso del villaggio l'abbiamo un po' lasciato a se stessa Effettivamente questi commenti Non hanno tutti i torti ragazzi Perché Eh ragazzi è una stradina e basta Che ci porta qui un pochettino isolata Siccome qua tanto non ci metteremo mai nient'altro Ho deciso di prendere un po' dei miei sapling Praticamente tutti quelli Veramente tutti quelli che avevo E niente li ho messi da questa parte qua ragazzi Vedete adesso io faccio così E li facciamo crescere con la dovuta calma Facciamo che magari ne facciamo solo 16 per adesso Così mi faccio uno stack intero Ok No 48 È vero che non è per 4 Ma è per 3 Secondo me qui con tanti alberellini così Che magari crescono uno un po' più alto dell'altro Secondo me ci può stare Peccato è che questo è un po' piccolo Questo diventa Ma questo è enorme Ma da quando si possono fare gli alberi giganti Con il Con il sapling normale Raga non lo sapevo Voi lo sapevate? Io non lo sapevo raga Vediamo un pochettino se si può fare davvero Allora aspetta Facciamo così 1 2 3 4 Se si può ragazzi è la svolta Eh no vedi che non si può Però li puoi unire volendo Cioè praticamente tu fai sta cosa E questo diventa tipo super mega gigante Guarda Lo faccio crescere qua Vedi? Vedi Ma che bell'albero è venuto fuori È bellissimo Mi piace Devo essere sincero mi piace Guarda non ne mettiamo troppi qua Perché qui potrebbero starci anche delle Delle strutture istantanee nuove Perché comunque adesso ne abbiamo una da sbloccare Di strutture istantanea Quindi di conseguenza Non mi sembra il caso di mettere troppa roba Qua ne mettiamo giusto uno di qui E secondo me è già più bello Chi è che sta dando un po' di fastidio Con questi rumori terribili Vedi? Già è un pochettino più bello Sono convinto che voi siete d'accordo con me Poi lo andremo ad arredare Con le lanterne Con le catene Insomma ci mettiamo un bel po' di cose E questa cosa È fatta In seguito Che cosa ho fatto in live L'altro ieri sera Ho creato questo nuovo ponte Perché come ben sapete Nelle sfide che ci avevano dato Per il livello 5 C'erano da costruire due ponti nel po' E io ne ho fatti due Questo l'ho fatto in live Con i burloni Mentre parlavamo È stato bellissimo Passare un po' di tempo con voi A chiacchierare del più del meno Se non volete Praticare di live Link in descrizione Perché poi nel caso Verranno ricaricate su marcipalla Allora guardate che bello Che è venuto veramente benissimo Quello che vi chiedo a voi adesso È siccome comunque Si potrebbe dire che è finito così Ma è un pochettino spoglio Ora sta a voi Decidere come farlo Io sceglierò un commento Prenderò il commento Per il video di mercoledì E andrò a finire il ponte In quella maniera Quindi mi raccomando ragazzi Non potete assolutamente Non commentare Mi raccomando Oggi però abbiamo da fare Due cose interessanti Abbiamo una missione di Odel E dobbiamo fare il negozio Di Stefefere Che non è scontata come cosa Perché è abbastanza difficile Da creare Dobbiamo fare un negozio Fantasy Mezzo aperto Mezzo non E mezzo non lo so E quindi non sarà facile Anche perché comunque Dobbiamo utilizzare Il nostro Jacaranda Ma Prima di andare a farlo Voglio fare la missione di Odel Che mi ha chiesto qualcosa di interessante Io l'ho già letta prima del video Perché volevo leggerla prima del video Sono un curiosone raga E leggiamola subito Ciao Marci Ho un nuovo compito Per te Devo ritirare una consegna Da un amico Molto particolare Cosa intendo? Beh Ogni volta mi facevo andare In antri misteriosi Ma ora che ci sei tu Beh Vai a 4000 10.400 Raga è lontano No non è lontano in realtà Perché comunque basta andare Dritto di là Per circa 5 minuti Praticamente E niente Andiamoci Sono sicuro che mi beccherò Già un dungeon Di conseguenza Io ho anche bisogno Di sistemarmi Assolutamente l'armatura Non posso assolutamente Andare avanti così ragazzi Guardate È tutta Completamente Distrutta Abbiamo tutte le cose distrutte Diciamo che mi avete consigliato Almeno di sistemarla Un pochettino Perché Se no ragazzi La perdiamo del tutto E non va mica bene Questa cosa Già abbiamo una spada in ferro Che ormai è finita Andiamo a dare un'occhiata Se all'interno Delle mie chest Ho delle spade in ferro Che magari potrei utilizzare Per questa missione Anche perché secondo me Potrebbe starci Belveno Vatros Pain Cycle E insomma È che abbiamo chissà che cosa Però abbiamo una spada in diamante Che non è male Anche se poi abbiamo L'Earth Stealer Che forse è quella Che dovremmo utilizzare di più E me sa che dobbiamo utilizzare L'Earth Stealer Raga Ma sì raga Sapete che vi dico Lasciamo tutto il resto E ci portiamo solo L'Earth Stealer È inutile Portare troppe cose Comunque da Marco L'altro giorno Ho comprato del pollo Mentre ero in live E ho trovato questo pollo Così strano Che mi dà 7.2 di Saturation Non so che cosa sia Però è un pochettino strano Marco cosa stai combinando Mi fa un po' di paura Questa cosa Vabbè Comunque Va bene così Direi che possiamo andare Nella nostra missione Di Odel Bello Mi piace tanto Beh Direi che siamo Arrivati Questo Penso che sia il dungeon Che dobbiamo esplorare Per ricevere il pacco di Odel Odel guarda Sei veramente qualcosa di Incredibile Ma io c'ho la spada dietro Ma che bello Che c'ho la spada dietro Guarda che bello C'ho la spada dietro Che spettacolo Raga Mi piace un sacco Raga E' bellissima sta cosa Non lo sapevo Comunque è una zona particolare Perché è piena zeppa di dungeon C'è un dungeon lì C'è un dungeon lì Lì sopra Qua dietro E' veramente pieno Quindi se volete Lasciate un mi piace A 10.000 mi piace Lo ripeto 10.000 mi piace Nel prossimo episodio Andiamo ad esplorare Quella zona là in alto Che secondo me E' super mega carina Ma ora entriamo qua dentro Prendiamo le torce Che ho preso prima Ok No vabbè Il creeper direttore Mi sembra un po' esagerato Mi sembra Mi sembra un po' esagerato Non esplodere campione Ti voglio rubare un cuoricino Non glielo ho rubato Eh mi sta che non glielo ho rubato Allora questo c'è un po' di Ah guarda il fiorilino Lo prendo volentieri Perché può sempre servirmi Anche i sapling E il resto Boh possiamo lasciare tutto Questa zona qua Ha qualcosa di particolare C'è uno smoker Questo lo prendo Lo do a Marco Raga Carino Questo me lo prendo per me E non si poteva prendermelo Dimenticato Qua c'è qualcosa che possiamo andare dietro Io ho paura che ci sono gli spawner Da qualche parte Ah non vedi guarda Vedete che c'è qualcosa di sotto No eh No Mi sa che dobbiamo salire Ok C'ho già un po' d'ansia raga Ok Che cosa c'è come mob qua Non vedo niente Oh Ma che fate Siete un po' tanti qua Aspetta Io devo far subito Guarda Scusa un attimo Aspetta Aspetta Sì 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 Raga non voglio prendere troppo danno Ho bisogno di blocchi raga Qua 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 questi qua Va bene Devo stare così raga Prendo troppo danno Se no Ok E che a me questa armatura Mi si distrugge troppo raga Con quelli Con gli incantamenti che ho Si distrugge troppo raga Ok Ok Dai che non siete troppo complicati Meno male che hanno la balessa Che non fa danno La balessa raga In realtà Perché se tu stai attento E non ti fai beccare Vedi non mi ha beccato Io lo butto giù E l'ammazzo Tanta roba raga Tanta roba Allora vediamo cosa c'è qua dentro Mele C'è una slime ball E c'è dello smeraldo Lo smeraldo lo prendo sicuramente Anche il pane Ma tu da dove sei arrivato Da dove è arrivato Dove l'ha preso Qua 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 Spacca 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 Oh 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 Da dove sono arrivati raga Non vorrei che c'è un altro spawner Da qualche parte qua Sì probabilmente qua sopra Io devo cercare di fare in modo che Li uccido raga Questi qua devo ucciderli raga Porca miseria Ok Cerchiamo di stare attenti Sul pezzo Ok Vedi se io faccio così Mi prende meno volte Ma non è vera Stava proprio Comunque sto earth stealer Ci sta raga Perché ruba veramente i cuori Secondo me Adesso non vorrei dire una cavolata Ma sembra che qualcosina L'ho rubato eh Non voglio dire una cavolata Qua cosa Tomato seed Ma ste cose qua Mi interessano Comunque dungeon Un carino Ma mica tanto Raga Mica 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 Tanto Che qua c'è altra gente Io farei una cosa di questo tipo Andrei a mettere delle torce qua dentro Vedi se io salgo E metto una torcia No Ma perché sei qua Ma perché devi far sta cosa Ma perché sei stupido Allora devo salire raga C'è troppo Oddio c'è tantissima gente Oddio raga c'è tantissima gente Oddio c'è tantissima gente Allora con calma Calma Marci Calma Calma Io così posso farlo Questi fanno danno raga Questi fanno un sacco di danno Porca miseria Ok È un dungeon comunque relativamente semplice Raga È che non mi fanno tanto danno Quanto mi distruggono un sacco d'armatura Sinceramente È già il 13% I leggings Oddio Oddio Spacca questo Spacca questo Ok spaccato Ottimo 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 12% raga Non posso permettermi di romperli Ma questi mi stanno buttando arming raga Quella che mi fa danno No ti prego Ti prego No 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 Ti prego 9% raga 9% Stiamo rischiando eh Stiamo rischiando un sacco Ho ammazzato 15 50 spider Che bello raga abbiamo il nuovo aquilone Teleport the shooter target Ma cos'è sta cosa che figata Cioè mi tippa del posto in cui voglio andare tipo No è tantissima roba Eh tutte ste robe qua raga mi interessa Prendo solo le mele che sono interessanti Vediamo cosa c'è Eh il ferro però lo prendo No il ferro devo prendere Anche le barra E qua c'è anche un arco Ok allora sistemiamoci un momentino le cose Il pane lo posso togliere Anche i sapling li metto da questa parte Come ben vedete Sto tenendo ordinato le cose Sembra strano Ma lo sto facendo davvero raga Anche perché insomma mi sembra una cosa doverosa Qua abbiamo delle cose interessanti Prendo solo questo power Mana boost non mente Forse solo perché in chain Potremmo fare la collezione Qua immagino Che ci sia qualcosa di interessante Ok Stavo dicendo immagino Ci sono le cose del nostro amico Odel Ma no Ok ah forse qua ci sono Ok No niente Eh raga mi sa che Mi sa che non c'è nulla qua Ah eccolo Eeeh Inbiot nightshade log Quelli che ragazzi Vi ricordate che dovevamo prenderli Non li abbiamo presi per i soldi Eh raga Eh questa cosa era interessante Va bene Direi fanier Mamma mia Che roba Porca miseria raga Mamma 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 mia Ok allora voglio cercare di capire Se qua posso scendere senza fare danno Io penso che non prendo danno da qua Ho preso due cuori e basta Però ho tipo di struttura armatura Wow ma qua c'è una cesta raga Che bella questa Io la voglio aprire Ragazzi facciamo così Se questo video raggiunge i 10.000 mi piace L'apro mercoledì Va bene Lo facciamo raga lo facciamo Oggi vi chiedi like Ma adesso torniamo a casa Perché facciamo questa cosa E diamo ad Odel Il legno della missione Ma voglio andare subito a costruire il negozio Di Stavefere Non vedo l'ora perché Ho una chicchettina per voi Voglio la mia ricompensa Come al solito Marci sei il mio eroe Ecco te la ricompensa Ok ok 16 di argento ci sta Perché ho fatto praticamente 6.000 blocchi Dai ho perso un bel po' di armatura Quindi ci può stare E sapete che cosa voglio fare? Consigliatemi anche questa cosa nei commenti Veramente raga Ho bisogno che in questo video Commentiate tantissimo Io pensavo di mettere lo stesso manning Anche a questa armatura di diamante Voglio fare questo investimento E avere la doppia armatura con manning Raga i soldi ci sono alla fine Se io faccio qualche missioncina Riesco banalmente a permettermelo Io ho già un libro con manning Banalmente potrei metterlo sui piedini Che sono già morti E sulla chestplate Magari queste due Sistemarle un pochettino Che cosa ne pensate? Raga sta tutto a voi Lo sapete già Sapete già come funziona Adesso mi libero un attimo Delle cose che ho nell'inventario Siccome sto sistemando tutto al meglio raga Senza fare dei disastri Voglio sistemare le cose già per bene Quindi ci vediamo fra poco Quando ho sistemato tutto per bene Eh si per forza raga Funziona così Eh funziona così Questo lo attacchiamo qua ragazzi Io non ho capito ancora Perché vanno verso di là Cioè non è difficile fare che vanno dall'altra parte Va bene così Non facciamoci troppe domande Allora sapete qual è la cosa bella Che voglio fare E io ho già preso il legno blu dalle mie ceste Allora siccome steve fere Eh avevano una casa bellissima nella big vanilla Per chi non ha seguito la big vanilla Banalmente io gli ho fatto una casa ragazzi Ci ho messo 16 ore a farla No 8 ore Non mi ricordo quanto Ed era venuta bellissima Siccome era fantasy E siccome noi dobbiamo fare un negozio in stile fantasy Voglio fare una casa un pochettino in quel tipo lì Siccome è già notte magari però dormiamo Ho detto siccome troppe volte Allora partiamo con il giacaranda Perché dobbiamo riprendere un pochettino le linee di questa casa In realtà io ho usato le eboni lì Quindi meglio ancora perché di eboni ne ho tantissimo ragazzi Veramente meglio così Allora qua dobbiamo farci l'ingresso Quindi facciamo 1, 2, 3, 4 Lasciamo 3 Lasciamo 1 1, 2, 3, 4 Ok facciamo proprio una cosa molto basilare Qui che cosa facciamo? Siccome abbiamo lasciato 1, 2, 3, 4 e 5 Da questa parte lasciamo praticamente il doppio Lasciamo ben 9 Quindi arriviamo da questa parte qua Da questa parte qui appunto Sarà tutto aperto Con una mega bancarella gigante Che però uscirà un pochettino Quindi farà una sorta di Di piccola L Perché voglio che sia comunque grande Questo negozietto che andiamo a fare Per Steph e Fiere Ok facciamo così 1, 2, 3, 4 E io adesso inizio a fare tutta la struttura Tramite le play Che a voi piace tantissimo E io adesso inizio a fare tutto Amici Ho ufficialmente finito Dopo un'ora e mezza di replay Qualcosa del genere Non so quanto ci ho messo in realtà Magari di meno Magari di più Non ne ho la più palida idea Questa è la casa finita Ho deciso volutamente Di non interrompermi Ogni qualvolta mi veniva in mente qualcosa Ma ho deciso di fare il lavoro Tutto il replay E questo è il risultato finale Secondo me è magnifico ragazzi È incredibile Penso che sia una delle strutture più belle Che abbia fatto nel minor tempo possibile Ovviamente Steph e Fiere mi avevano chiesto Degli squiri e delle spade E questi li ho rubati Ma non diteli niente Loro sono andato a rubarli brutalmente E questo ragazzi è troppo Troppo bello Non ho fatto il piano di sopra Perché ancora non sapevo Se a loro vuole essere Un piano di sopra da sfruttare Quindi per adesso rimane in questa maniera Fatemi sapere sotto nei commenti Se vi piace E l'ho fatto esattamente Come avevano chiesto Bello aperto di lato E bello anche con un'entrata Da questa parte Ragazzi Se c'è qualcosa che non vi piace Ditemelo sotto nei commenti 10.000 mi piace E tanti tanti commenti Su tutto quello Che vi ho chiesto Ciao a tutti